Oh, ciao Giulia, com'è andata? Penso sia andata piuttosto bene, nel senso io mi sono divertita, quindi non so cosa... Aldo, parla tu, che lei è timidissima. No, è andata bene, ci siamo divertiti. Parla tu, Giulia. Penso che l'importante sia un po' suonare insieme, quindi a me è piaciuto. A me è piaciuto tantissimo il vostro stile, è molto particolare, molto surreale, crea un'atmosfera che veramente non mi è mai capitato di sentire, quindi vi faccio i complimenti perché siete giovanissimi, mi spiace perché per tanto così non mi siete guadagnati la vittoria, però veramente a me siete piaciuti tantissimo, siete davvero bravissimi. Grazie. Quanto tempo hai suonato insieme? Meno di un anno, sì. Abbiamo iniziato a suonare con altri nostri amici facendo più o meno lo stesso genere e poi vabbè, con i nostri amici abbiamo finito e ogni tanto ci ritroviamo io e lui e suoniamo un po'. Cosa vi ha fatto dire, ok, la tua voce va bene per la mia chitarra e la mia chitarra va bene per la tua voce? Ma in realtà niente, ci siamo trovati così, in realtà per oggi per esempio abbiamo provato forse due volte se va bene perché tra una cosa e l'altra, però ci siamo divertiti. Poi facendo due licei comunque non è mai semplice conciliare prove e tutto e in realtà come ha detto lui è successo tutto molto a caso, ci siamo trovati un giorno in sala prove con dei nostri amici e abbiamo iniziato a fare una canzone a caso e abbiamo detto, wow, dobbiamo rifarlo. Io non direi a caso, io direi che la musica vi ha unito ed è stato il destino, vi siete trovati? La musica è stata. La musica, chiamiamo la musica perché poi alla fine gira tutto attorno alla musica, quindi è la musica e la musica io vi auguro che vi porti veramente lontano e ovunque vogliate. Grazie. Grazie. Grazie a voi.